Maria De Filippi, la regina indiscussa della televisione italiana, continua a dominare i pomeriggi e le serate del sabato su Canale 5, con i suoi programmi di successo. Da amici a uomini e donne, da Temptation Island a C'è posta per te, i suoi show sono seguiti con grande interesse dal pubblico, che premia la conduttrice con ascolti record e share elevatissimi. La sua carriera è iniziata nel lontano 1992 con il talk show Amici, che nel tempo si è trasformato nel talent show di successo che conosciamo oggi, ha lanciato nel mondo della musica numerosi artisti di talento. Maria De Filippi è stata per anni legata al celebre giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, scomparso nel 2023. La coppia ha vissuto a lungo in una villa nel quartiere esclusivo dei Parioli a Roma, dimora in cui la presentatrice risiede ancora oggi. La villa di Maria De Filippi, immersa nel verde nel cuore dei Parioli, è un rifugio di privacy e eleganza. La conduttrice ha sempre mantenuto un profilo riservato sulla sua dimora, ma qualche dettaglio è emerso durante collegamenti televisivi. Gli interni della casa sono caratterizzati da uno stile classico, con mobili in legno, pareti bianche e grandi piante verdi. Il soggiorno è dominato da una grande scrivania in legno massiccio, mentre la cucina presenta finiture in legno chiaro e piani bianchi. La villa di Maria De Filippi è un'oasi di tranquillità e raffinatezza, dove la conduttrice si ritira dopo le lunghe giornate di lavoro. Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie sul mondo della televisione del gossip, iscrivendoti al nostro canale.